Sì, purtroppo i ragazzi magari hanno risentito dell'inizio dell'importanza della partita, però poi personalmente non mi sono dispiaciuti. Purtroppo abbiamo subito gol nell'unica occasione pericolosa che abbiamo avuto contro e nel calcio ci sta. Complimenti a loro, noi pensiamo a lavorare con le mani rosse. Penso che comunque tu potrai essere contento della prestazione dei ragazzi. Sì, sì, assolutamente. Il campionato è stato fatto pure per fargli fare esperienze questi ragazzi e stanno acquisendo sempre due partite in partita. Allora non devo rinforzare niente perché ci mettono sempre tutto, sia agli allenamenti che durante le partite. A volte ho difficoltà anche a fare i convocati perché abbiamo una dose di 26 in 7 giocatori, quindi bisogna fare solo i complimenti a questi ragazzi. Cosa cambia adesso per la Torre Novese? Per la Torre Novese cambia nulla perché le partite che rimangono cercheremo di vincerle tutte, comunque giochiamo sempre per cercare di vincere. Poi alla fine tireremo le somme e vedremo dove saranno in classifica. La prossima contro il benestare è a Torrianova? Sì, non so, all'andata è stato invertito il campo, non so adesso se dovremmo giocare lì o a Torre Novese. Comunque sì, il benestare è un'altra partita importante. Partita importante, ormai per noi sono tutte partite importanti. Grazie.